Ben ritrovati, ritorna durante questo weekend uno degli eventi più interessanti della fiera di Padova, stiamo parlando di Casa su Misura, il salone dell'abitale con tutta una serie di novità che noi ovviamente ci facciamo spiegare subito dalla dottoressa Desidera. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Allora, tanti gli appuntamenti e soprattutto tante le novità. Sì, tantissime novità, si parla tantissimo di design a questa nuova edizione di Casa su Misura che è la 26esima, quindi abbiamo passato il giro di boa dei 25 anni. Ma tu pensa, 26 anni già, io me la ricordo proprio agli inizi di questa fiera che ha sempre avuto comunque grande successo e grande attenzione da parte del pubblico che frequenta la fiera. Certo, è una fiera con numeri importanti, è una fiera che ancora resiste nonostante tutte le altre manifestazioni del settore non siano in qualche modo state cancellate o ridotte. Quindi abbiamo 400 espositori del settore arredo e delle riqualificazioni energetiche. Abbiamo due temi grandi su questa nuova edizione di Casa su Misura che cambia anche immagine. Abbiamo parlato un linguaggio un po' più moderno, già dalla... Ma è anche l'evoluzione, i tempi, insomma sicuramente 25 anni fa non si parlava di domotica, sicuramente, oggi si parla di domotica, oggi si parla di illumino elettronica, no? Sì, si parla di temi importanti, di domotica, soprattutto è entrata nel nostro linguaggio quotidiano, perché? Perché abbiamo l'esigenza di risparmiare, si parla di risparmio energetico, si parla di sicurezza e questi sono i temi che sono trattati all'interno di Casa su Misura. Ecco, parliamo un attimo di sicurezza, sicuramente all'interno dei padiglioni della fiera di Padova, in questo weekend, voglio ricordarvi, ci sarà appunto anche questo settore, perché mai come in questo periodo, negli ultimi anni, ahimè, la sicurezza della propria casa è argomento principale. Esatto, ci sono le nuove applicazioni dal telefono, ci sono le nuove start-up, una serie di aziende che presenteranno queste nuove... Guardi, non voglio dire una bugia, ma addirittura anch'io per casa mia dispongo di un'app di un'app che riguarda proprio l'accendere o chiudere la luce di casa, anche perché uno arriva a casa, insomma. Quindi il risparmio anche energetico, quindi comandare dal telefono tutte quelle che sono le applicazioni di casa. Il risparmio energetico, la sicurezza, si controllano adesso con un touch. Eh sì, in effetti stavo guardando appunto se era spenta la luce di casa, perché non mi ricordavo se l'avevo spenta o meno. Allora, torniamo invece ad un altro dei settori più importanti e curioso sicuramente da visitare, che è l'home shopper. Che cos'è l'home shopper per chi magari con l'inglese ha poca dimestichezza? Diciamo che è una persona che ti aiuta a scegliere quello che sono le nuove tendenze, quello che però è adatto ai tuoi gusti, alle tue esigenze. Quindi non è un arredatore, ma una persona che cerca di conoscerti, di sapere quali sono i tuoi gusti e ti porta attraverso la visita anche di casa su misura, attraverso dei consigli, ad arredare casa proprio su misura, secondo i tuoi gusti. Quindi è una sorta di personal trainer, diciamo così, per chi si occupa di sport. Uno dei settori forti di questa fiera è sempre stata comunque la pagina degli accessori, dei complementi d'arredo, insomma di tutte quelle curiosità che ognuno poi cerca nel tempo di inserire nella propria casa, nel proprio arredamento. Certo, tutti questi accessori di design, soprattutto di design italiano, parliamo di design italiano, lo troviamo all'interno dei padiglioni 7 e 8, dove quest'anno abbiamo anche un'altra novità. Abbiamo l'intervento dell'architetto Simone Micheli, che per Padova Fiera e per Casa su misura ha curato una mostra che si chiama Luxury Social House, dove si parla di un lusso che non è più un lusso dell'opulenza dei materiali all'interno della casa, ma il lusso diventa quello di passare il tempo assieme ai propri abitatori della casa. Diciamo che oggi è davvero un lusso trovare il tempo per riunire contemporaneamente gli abitanti della casa, quindi sicuramente ci sarà modo di vedere attraverso appunto questo percorso che Casa su misura offre in questo periodo, che ricordo va da oggi fino a domenica prossima. Ah, bene, quindi tutta una settimana? Tutta una settimana, il sabato e la domenica apre alle 10 e chiude alle 21, mentre dal lunedì al venerdì abbiamo gli orari dalle 16 alle 21. Quindi una notevole presenza anche di aziende italiane, mi diceva, mentre la presenza delle aziende straniere? La presenza delle aziende straniere l'abbiamo nella parte di Luminotronica, che invece apre il giorno 12 e chiude il 14, quindi nell'ultima parte della settimana di Casa su misura. E poi nei padiglioni noto che ritorna in contemporanea con Casa su misura un'altra delle fiere più acclamate da parte del pubblico che è Padova Sposi. Sì, Padova Sposi sarà nell'ultimo weekend, quindi il 14 e il 15 ottobre. Anche lì sorprese, immagino, poi il giorno... Sorprese, nuove soluzioni, tra l'altro quest'anno durante Padova Sposi ci sarà un concorso dove potranno vincere chi parteciperà 500 euro da spendere attraverso in uno degli espositori. Insomma, anche quest'anno Casa su misura propone soluzioni innovative, ma soprattutto tante sorprese e per trovare sempre di più delle case a misura d'uomo, ma anche a misura di tempo e case sempre più intelligenti. Esattamente. Bene, allora io ringrazio la dottoressa Desidera della fiera di Padova e ovviamente vi diamo appuntamento proprio alla fiera, nei padiglioni della fiera, per ammirare quello che oggi è ancora Casa su misura dopo 26 anni di esposizione. Grazie per l'attenzione e buona visione dei nostri programmi. Grazie per l'attenzione e buona visione dei nostri programmi.